Nell'anno della pandemia crollano le nozze, anche le unioni civili, anche in Sardegna, anche a Cagliari e il mondo del wedding sceglie di protestare con un flash mob in Piazza del Carmine. Sono loro gli operatori del settore wedding, di chi organizza le nozze e l'intrattenimento. In tutta l'isola possiamo vedere la loro protesta. Chiedono di poter ripartire, di avere delle date certe, delle date sicure per poter tornare a lavorare. Ovviamente il coronavirus c'è ancora, ma la crisi morde anche il settore delle nozze e anche dell'intrattenimento insomma legato ai matrimoni perché, lo ricordiamo, dopo il sì in chiesa o in comune c'è anche il tempo per i festeggiamenti. I ristori, praticamente pochissimi, insufficienti, denunciano gli organizzatori degli eventi legati alle nozze. La richiesta è praticamente una. Fateci ripartire, non vogliamo nessun tipo di assistenzialismo o di aiuto. Vogliamo tornare a lavorare dopo praticamente un anno di stop. Grazie.